Il sanganel è un sanguinaccio tipico della regione Friuli Venezia Giulia, dal gusto deciso e dal colore scuro. Viene preparato soprattutto nei mesi invernali, a livello artigianale o familiare, utilizzando sangue suino rappreso in acqua bollente e macinato con carne e lardo freschi, aggiungendo poi sale, pepe e aromi naturali. La carne utilizzata è quella delle frattaglie, polmoni, cuore e reni. Esistono numerose varianti del sanganel, come testimoniato dalle diverse ricette della tradizione filulana. In base alla zona, infatti, vengono aggiunti nell'impasto altri ingredienti, come la farina di grano saraceno, il pane raffermo, i pinoli o luvetta. L'impasto ottenuto, insaccato in un budello, viene conservato a una temperatura inferiore ai 10 gradi centigradi e consumato cotto entro due settimane.